Eccoci qui per la terza parte di Ore 7 dedicata all'ospite, oggi è l'onore di avere vicino a me l'avvocato Luca Ponti che presenta il proprio libro. All'avvocato si dice sempre tutto, a me avrebbe da dire se si dice sempre tutto si dice sempre di tutto, perché cambia la questione. Ed è anche un libro, leggetelo vi raccomando, un po' umoristico. Cosa si racconta in questo libro? Sì, all'avvocato si dice sempre tutto, non so se sia un augurio o una minaccia. Esatto, per quello volete iniziare anche in questo modo, diventa quasi uno psicologo. Esatto, il libro è strutturato con delle novelline molto particolari, molto umoristiche. C'è un avvocato di mezzo, no? Che racconta un po' la situazione della giustizia nelle sue diverse sfaccettature, cercando di analizzare i diversi ruoli dei protagonisti, delle cause, dei processi, che sono innanzitutto i clienti, ma sono anche, voglio dire, gli avvocati, i pubblici ministeri, i giudici, i cancellieri, tutto quello che ruota attorno e descrive un po' come la giustizia e delle volte si sviluppa in maniera diversa da quello che la gente si aspetta. Perché l'idea di questo libro? Come l'è nata? Oltretutto lei ha già il lavoro da avvocato, che si invita a fare anche adesso lo scrittore, insomma uno dice, dove hai trovato il libro per trovare questo tipo di ispirazione? Beh, è uno sfogo intellettuale, delle volte portato al paradosso, l'umorismo serve a rendere anche, diciamo così, una componente surreale possibile ed è quello un po' di... Surreale o più reale? Beh, ci sono delle situazioni... Cioè, se l'è venuta questa cosa perché alla fine c'è il surrealismo che entra nel realismo, secondo me. Esatto, non è un libro necessariamente autobiografico, ovviamente trae origine da quello che si vede sviluppare nella giustizia che è qualcosa di diverso dal comune sentire e da come le persone si approcciano, però chiaramente l'uso dell'umorismo è per cercare di avvicinare delle cose che sembrano lontane come il nome del protagonista, Castano di Tongo, a uno di noi. Un capitolo da cui è praticamente, diciamo, più legato rispetto agli altri, un fatto in cui magari lo sente più suo rispetto a tutti gli altri. Beh, emotivamente c'è anche un'autocritica al modo di approcciare degli avvocati, al linguaggio degli avvocati, alla comunicazione, che talvolta sono delle barriere culturali a capire veramente il problema dell'uomo. La missione dell'avvocato è quella di capire il problema e tendenzialmente risolverlo tramite la giustizia. Talvolta si creano invece anche intellettualmente delle distanze che impediscono all'avvocato di capire e al giudice di giudicare conoscendo veramente la situazione. È tanto distante questo mondo della giustizia dal mondo reale. Entriamo nel grande tema, insomma, se è giusto fare questa riforma della giustizia di cui se ne parla. Ma io credo che si debba sempre di più trovare una formula di comunicazione che passi attraverso la conoscenza dell'uomo, perché l'uomo deve diventare alla base, la situazione delle persone deve diventare alla base, quindi la sensibilità di quelli che sono i problemi delle persone deve essere alla base della riforma della giustizia. Talvolta si parla dei tempi, è un esempio tipico, una giustizia che dura troppo è una giustizia che pesa chi la subisce. In questo periodo c'è proprio l'esigenza per mettere mano a questo decreto, insomma, in questo momento, con una legge? Sì, sì, credo che ognuno avverta la crisi della giustizia come forma di... Cosa sta accadendo, diciamo, nelle aule? C'è una disillusione, una diffidenza che copre tutto il sistema giustizia e che si manifesta negli indici, diciamo così, se così si può dire, di presenza in qualunque settore. Sono diminuite le cause? Sono diminuite le cause, sono diminuiti i processi, sono diminuiti anche i ricorsi in sede, voglio dire, amministrativa, erariale. Dovunque la giustizia manifesta dei cedimenti, e penso che questo non dipenda neanche dagli strumenti alternativi di conciliazione, c'è proprio una, diciamo, strutturale, così, difficoltà della giustizia a interpretare i bisogni delle persone. Senti, ho letto anche prima nella prima parte di Ore 7, annunciando che insomma sarebbe venuto un ospite a sorpresa, in questo caso è lei, insomma, proprio oggi si parla del giorno più nero per gli evasori, chiama il fatto quotidiano, un accordo sulla legge Bonafede, pene da 4-8 anni, più confisca per le frodi, fino a 100 mila, sopra i 100 mila euro, insomma. Al di là che magari ci sono delle parti politiche che caldeggiano di più o di meno nella determinata, insomma, tematica sugli evasori, però è giusto, sbagliato sugli evasori cercare di puntare in questo momento rispetto magari a altri tipi di categorie? Beh, è una, diciamo, una discussione che si trascina da sempre, se ci ricordiamo, perché da sempre c'è questo luogo comune che il dipendente pubblico non produce durante l'orario di lavoro e quindi bisogna perseguirlo nella misura in cui, anziché lavorare, fa qualcos'altro e l'imprenditore privato, il professionista, la persona che in realtà evade. Queste sono delle premesse per queste riforme che però, adesso al di là del caso specifico, bisogna sempre conoscere le leggi prima di giudicare, un po' come i processi, io talvolta sento parlare dei processi e rabbrividisco senza conoscere le carte, senza conoscere le persone. Quello che si deve recuperare è l'umiltà di avere l'approccio di conoscere innanzitutto la persona che hai davanti e giudicare delle situazioni sulla base del percorso di questa progettazione. Il libro, immagino, proprio da cui è partita un po' la filone di questo libro, conoscere il caso umano, non tante volte distaccarsi e cercare praticamente di utilizzare questo, un po' torno a questo Zecca Garbugli, lo ricordiamo di Manzoniana Memoria. Sì, la Zecca Garbugli che è la versione più raffinata e letteraria in realtà del Sarchiapone o della supercazzola, dicevo, di Tognazzi, quando per non farsi capire dal vigile, per non prendere una multa, riusciva a deviare l'attenzione non facendosi capire. Siamo rimasti lì, insomma, in una versione 4.0, insomma, di quello che poteva accadere. Sono i corsi e i ricorsi della letteratura che si avvicina all'umorismo e questo per dire che l'umorismo e la letteratura sono qualcosa di unico e che si può legare anche alla giustizia. Ma veramente all'avvocato si dice sempre tutto, cioè ci sono veramente portati i clienti a potersi esprimere in qualsiasi modo, a fare in modo che l'avvocato diventi quasi un dottore, prima lo chiamavamo uno psicologo, cioè con la convinzione il cliente quando arriva lì di dire, tanto lui mi risolverà il problema. Faccio un esempio, al dottore si arriva lì e si dice, beh, tanto lui mi risolverà il problema, poi magari si rimane delusi se alla fine ovviamente il problema non viene risolto. Così a voi avvocati, insomma, magari ci si rivolge dicendo, lui mi risolverà il problema, poi succede che come sempre, magari cause vinte, cause perse, alla fine l'avvocato diventa la colpa, no? Beh, questo è un problema reale. Spesso le persone non riescono a cogliere l'importanza. Che umani siete umani anche voi, insomma. Sì, ma diciamo che la cosa più importante è che l'accertamento della verità non corrisponde alla verità assoluta, cioè non c'è una verità unica. Spesso le cause si decidono sul concetto di prova, no? Cosa puoi provare della tua verità? E delle volte le cause dipendono anche da delle variabili indipendenti che sono legate alle testimonianze, alla difficoltà proprio di fornire le proprie ragioni. L'avvocato ha un ruolo fondamentale in questo senso, riuscire a immedesimarsi nella persona, è per questo che la deve conoscere, perché le sue ragioni si sono fatte valere nel migliore modo possibile, tecnicamente. Sì, non è tanto distante, insomma, a quello che ho detto anche del fatto che l'avvocato vuole il dottore. Anche il dottore si deve molto avvicinare alla persona perché dipende, un virus può attaccare in qualche modo una persona come in un'altra, insomma. E così allo stesso modo è un caso che capita a un virus giudiziario, in fondo. Esattamente. L'ultima cosa che le volevo chiedere, tante volte si parla, parliamo un po' dei giovani, tanto per università, di scuole, insomma, si cerca sempre di formare, c'è il problema anche dei medici, per dire, insomma, che ci sono pochi medici specializzanti o meglio, ci sono pochi dottori. Di avvocati ce ne sono? Oppure si allontanano sempre di più da questo mondo? Di giovani avvocati che vogliono intraprendere questo tipo di mestiere? Ma io trovo che la carriera dell'avvocato sia qualcosa che resterà nella nostra storia, resterà nel nostro DNA, sia qualcosa che non si possa eliminare. È un percorso lungo, un percorso psicologia. Gli avvocati se ne sentono parlare fin dall'antica Grecia, alla fine. E noi veniamo dalla cultura greca. Noi veniamo dalla Grecia, ma i romani, voglio dire, senza narcotizzare o far riprendere il sonno alle persone a quest'ora, parlando di Quintigliano o di Cicerone, effettivamente questa è la nostra storia, che non possiamo negarci. Il percorso dell'avvocato è però un percorso difficile, un giovane lo deve sapere quando lo intraprende, perché è un percorso che prevede al termine di un lungo iter, diciamo così, universitario, un esame di Stato, che si debba iniziare questa consapevolezza di chi si è, di chi gli altri sono e come li si debba capire per difenderli, che non è una cosa automatica, cioè non è una professione che, diciamo così, inizia immediatamente solo con la laurea. Quali sono dei consigli ai ragazzi, che insomma vogliono cercare di intraprendere questo tipo di carriera? Sì, deve essere, secondo me, un grande bagno di umiltà e immergersi in culture diverse. Questo libro cerca di trattarle, un po' come la psicologia, la comunicazione e voglio dire una conoscenza a 360 gradi di cosa è l'uomo, che è qualcosa di veramente complicato. Pensiamo a tutti i problemi che derivano adesso dalle culture che si incrociano con storie diverse, con tutto questo problema transculturale, antropologico quasi, di diversità. Certo. Dove si può trovare questo libro? Ovunque, spero. Come dovunque la giustizia, ovunque il libro. Ovunque si può trovare questo libro? Non ancora in tribunale. Ah, non ancora, non è ancora arrivato all'inizio. Perché si sente di consigliarlo? Perché per chi vuole capire la giustizia, questo è un modo scherzoso per accostarsi senza restare scioccati e senza avere sorprese. Ancorati a quel mondo che sembra così distante, che poi alla fine non è. Perché dietro una toga alla fine c'è sempre una persona. Sì, sì, sì. Alla fine c'è lo stesso uomo che cerca di capire, con tutte le sue fragilità, e questo libro cerca di avvicinarlo. Grazie all'Avvocato Luca Ponti per essere venuto qua. All'Avvocato si dice sempre tutto, questo è il nuovo libro che mi sento di consigliare per la giornata di oggi. Andate subito nelle librerie. Grazie, ci vediamo tra pochi minuti con l'ultima parte di Ore 7. Grazie.